Sesta parte della quindicesima lezione dell'insegnamento di analisi matematica 1b. Finora abbiamo descritto l'integrale di Riemann solo per funzioni definite su domini di tipo rettangolare. Vediamo adesso come poter definire l'integrale anche su domini non necessariamente rettangolari. Quindi supponiamo di avere una funzione f definita su un dominio ω a valori in R con ω, un sottinsieme di Rm, non necessariamente rettangolare, quindi immaginiamo che sia questo ad esempio, e intanto per potersi ricondurre al caso rettangolare andiamo a definire quella che si chiama estensione a 0 di f, chiamiamola al momento f tilde, ed è la funzione definita come f di x se x sta in ω, quindi nei punti di ω abbiamo la funzione f di x, e abbiamo 0 se x sta fuori da ω, quindi sta in Rn ma non in ω, e quindi andiamo a porre 0 fuori da ω. Quindi in questo modo la nostra f tilde risulta definita su tutto Rn a valori reali. Un esempio di questa estensione a 0 è la funzione caratteristica di ω, la indichiamo con la lettera chi, è una specie di x maiuscola ma si legge chi, chi di ω di x è definita come 1 se x appartiene ad ω, 0 se x non appartiene ad ω. Questa non è altro che l'estensione a 0 della funzione costante f di x uguale a 1 su ω. Per le funzioni caratteristiche abbiamo le seguenti proprietà, che se A e B sono due sottinsiemi di Rn, se andate a fare l'insieme A e l'insieme B, supponiamo di andare a considerare l'unione, se andate a fare la funzione caratteristica dell'unione dei due insiemi, la possiamo anche scrivere come la funzione caratteristica del primo insieme più la funzione caratteristica del secondo insieme, questo sicuramente vale 0 fuori dall'unione perché vale 0 fuori da A e 0 fuori da B. Nei punti di intersezione questa somma mi dà 1 più 1 perché viene contato sia in A che in B, quindi per ottenere la funzione caratteristica dell'unione dobbiamo togliergli 1 ogni volta che siamo nell'intersezione, quindi ci andiamo a togliere la funzione caratteristica dell'intersezione. Abbiamo questa identità che vale per qualsiasi insieme. Un'altra proprietà che può essere utile è che se A è incluso in B, abbiamo un insieme A e un insieme B che lo contiene, la funzione caratteristica di A e la funzione caratteristica di B, abbiamo che quando la funzione caratteristica di A è 1 siamo anche in B e quindi sicuramente B è una funzione maggiore o uguale che di A. Se siamo in B ma non in A, B vale 1 e A vale 0, la funzione caratteristica è sempre maggiore o uguale di 0 e sempre minore o uguale di 1, quindi abbiamo questa proprietà di monotonia. Se ω è un insieme limitato e F da ω a R è una funzione limitata, allora se ω è limitato cosa significa? Significa che lo possiamo sempre inscatolare dentro un rettangolo. Se ω è limitato vuol dire che c'è sempre una palla che lo contiene e un disco è sempre contenuto dentro un rettangolo o un quadrato, quindi vuol dire che possiamo trovare un rettangolo R che contiene ω. quindi esiste R rettangolo, adesso stiamo facendo gli esempi in R2 ma la stessa cosa vale anche in qualsiasi dimensione, tali che ω è contenuto in R. qui stiamo usando il fatto che sia limitato e allora cosa succede che l'estensione a 0, data una funzione F, l'estensione a 0, quindi quella che vale F in ω e 0 fuori, è definita su tutto R, quindi l'estensione a 0 è definita da R, dal rettangolo R all'insieme dei numeri reali. È una funzione, è anch'essa una funzione limitata, perché già la F assumeva valori limitati, la F tilde al massimo raggiunge il valore 0 e il valore di F. Se F tilde risulta integrabile secondo Riemann sul rettangolo R, Allora possiamo definire l'integrale di F su ω, poniamo l'integrale di F su ω, di F di x in dx, se volete, lo poniamo come l'integrale dell'estensione a 0 di F fatta sul rettangolo R in dx. Ora, siccome abbiamo esteso a 0, se per caso andavamo a prendere un altro rettangolo diverso da R, un R' che comunque contiene ω, quello che cambia integrando su R e R' è semplicemente aggiungere degli zeri, perché qui la funzione vale l'estensione a 0, vale 0 anche su R' fuori da ω. Quindi questa definizione non dipende dalla scelta del rettangolo R che contiene ω. Ok, quindi dipende solo da ω e da F, e questo mi dà il valore dell'integrale della funzione F su ω. Ovviamente l'ipotesi necessaria è che questo integrale su R esista, quindi che la funzione sia integrabile secondo Riemann. In tal caso, in tal caso, diciamo, quindi se F risulta integrabile secondo Riemann, in questo caso diciamo che F è integrabile secondo Riemann sull'insieme ω, anche se ω non è un rettangolo. Questa definizione risulta abbastanza semplice a essere enunciata, però introduce qualche piccolo problema. ad esempio se F è continua su ω non è detto che la sua estensione a 0 sia continua su Rn. immaginate questa cosa, quindi supponete di avere qui nel piano di base mettiamoci il dominio ω, su questo dominio andiamo a disegnare il grafico della funzione F, quindi supponiamo che la F abbia un certo grafico, quindi immaginate una superficie che descrive il grafico della funzione sopra questo dominio. quando andate a fare l'estensione a 0, se questo qui è il grafico di F, l'estensione a 0 ha come grafico i punti del grafico di F sopra ω, ma poi ha come grafico una porzione del piano fuori da ω, e quindi cosa succede? succede che, quindi in arancione andiamo a fare il grafico dell'estensione a 0, si introducono dei punti di discontinuità, dei salti, quando attraversiamo il bordo di ω, prima dentro ω abbiamo certi valori, fuori da ω abbiamo immediatamente 0, quindi F tilde presenta discontinuità nei punti della frontiera di ω, dei salti, quindi anche se la F è continua, non è detto che la F tilde sia continua, e quindi non è detto che poi sia garantito l'integrabilità, se c'era continuità, l'integrabilità era garantita, ma se ci sono dei salti, delle discontinuità, ecco quello può essere un problema. Ci viene in aiuto un teorema che enunciamo, ma non dimostriamo, è una dimostrazione abbastanza tecnica, che dice questo, che un teorema dovuto alle bag, e dice questo, che sia F da R a R, questo R, il primo R è un rettangolo, il secondo numero reali, F è una funzione limitata, che è definita sul rettangolo R, abbiamo che F è integrabile secondo Riemann, se e solo se l'insieme dei punti di discontinuità, di insieme dei punti in cui F non è continua, quindi i punti di discontinuità di F, è un insieme di misura nulla, secondo le bag. A questo punto c'è bisogno che vi spieghi che cosa sia un insieme di misura nulla, le andremo a descrivere nel prossimo spezzone video. Adesso diamo solo un accenno alle conseguenze di questo teorema. Quindi qui sta dicendo che se ho una funzione definita su un rettangolo, se questa è discontinua in un insieme di punti non troppo grande, un insieme che avrà una certa misura nulla che va precisata, allora la funzione risulterà essere integrabile secondo Riemann. E quindi, tornando alle nostre definizioni di integrale su omega, come corollario abbiamo questa cosa, sia omega, un sottinsieme di rn con la frontiera di misura nulla e sia f da omega a r una funzione continua. allora f è integrabile su omega. La dimostrazione è una conseguenza del teorema che è enunciato prima. Noi, se andiamo a prendere l'estensione l'estensione sia f tilde l'estensione a vero di f se x è interno a omega f tilde coincide con f di x in un intorno di x quindi f tilde è continua in x perché lo è la f coincide con f in un intorno di x e la f continua in x in tutto il suo intorno. Se x è esterno a omega allora f tilde coincide con 0 in un intorno di x perché è l'estensione a 0 all'esterno di omega e quindi f tilde è continua anche qui perché è una costante è continua è costante in tutto in intorno di x quindi sicuramente è continua e quindi significa che gli unici punti di discontinuità di f sono contenuti dentro i punti di frontiera quindi sono contenuti tra i punti di frontiera di omega ma l'ipotesi è che la frontiera di omega abbia misura nulla quindi insieme e quindi insieme dei punti di scontinuità di scontinuità a misura nulla e quindi per il teorema di Lebeg f di tilde è integrabile su ogni rettangolo che contiene omega e quindi questo significa che f è integrabile su omega per cogliere fino in fondo il senso di questi enunciati è necessario che adesso vi descriva che cosa sono gli insimi di misura nulla secondo Lebeg e questo lo spieghiamo nel prossimo spezzone grazie